ciao grazie a questa meditazione noterai un miglioramento a livello cellulare e la sola cosa che ti chiedo di fare è metterti in una posizione comoda anche a gambe incrociate e di ascoltare questa meditazione fino in fondo affinché queste cellule funzionino in modo efficace hanno bisogno di una mente calma una mente felice una mente convinta delle cose buone ribadisco e anche che si possono apportare delle modifiche affinché queste cellule funzionino in modo efficace e ripristinino qualunque condizioni si trovi nel tuo corpo e parlando oggi delle ossa alle cellule verrà ricordato di mantenerle sane e forti quanto più che mai le strutture del nostro corpo sono infinite abbiamo tanti di quei muscoli che nemmeno non li riusciamo a controllare però se riusciamo ad allinearli e anche a migliorare in generale lo stato della nostra mente che poi automaticamente dal comando al corpo di rilassarsi che sarei anche a proprio agio con se stessi e 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